Si chiama Intelligenza tra le mani, il convegno dove si discute il valore dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato ai fini dell'orientamento scolastico. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. Abbiamo organizzato oggi questo convegno regionale perché è fondamentale far sì che le scuole incontrino il mondo del lavoro per dare opportunità agli studenti al fine di sviluppare le cosiddette competenze soft, soft skills, che sono tanto apprezzate dalle imprese proprio per la crescita del mondo impreditoriale e il territorio in particolare. Alternanza scuola-lavoro ma anche apprendistato sono dei percorsi estremamente efficaci che le scuole ormai realizzano da almeno quattro anni. L'USR ha voluto promuovere l'intervento per promuovere l'apprendistato come strumento validissimo ed efficace per il contenimento della dispersione scolastica e come strumento anche per favorire la transizione nel mondo del lavoro. Quindi vogliamo condividere questa esperienza con tutte le scuole. Diciamo che noi ci preoccupiamo soprattutto come agenzia, come ente in house del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale Ampal di aiutare i referenti regionali e territoriali a fare rete e a lavorare per facilitare le cosiddette transizioni da scuola a scuola, dalla scuola a lavoro, da lavoro a formazione e quindi il nostro compito è proprio quello di aiutare sia le scuole, sia le università, sia gli ITS ma anche il mondo della formazione affinché i loro percorsi aiutino i giovani soprattutto ad individuare le opportunità migliori per entrare nel mercato del lavoro.